Buongiorno a tutti. Allora un'ora e mezzo dalla Toscana raggiungi la betona. Ma come dove la neve? Vieni un po' sulle zeno. Con la SAF nevica anche se c'è il sole. Gli impianti di innevamento programmato ti offrono piste ben coperte e preparate per allenarti, fare gare o semplicemente per divertirti. Allora cosa aspetti? Monta in macchina e vieni a sciare con noi. Ricordati, questo è un invito della SAF. Nelle vetrine di cose così, raffinatezza ed eleganza, assumono la forma di mille oggetti per completare la vostra casa. Porcellane, cristallerie, posaterie d'alta classe, per fare di un regalo, un regalo importante. Tradizione ed esperienza da cose così, anche per le più complete liste nozze. Cose così, a Firenze, in Borgo la Croce. Servizio di alta qualità con personale di cucina e di sala. Preziose tovaglie, stoviglie in porcellana, cristallo e argento, danno un ulteriore tocco di classe ai raffinati menu con piatti espressi. Del colletto, organizzazione, ricevimenti. Telefona al 667638 o al 360091 a Firenze. Pellicceria di G4 propone giacchino di ritaglia di Volpe Crystal con rifinitura in nappa stampata a sole 890.000 lire. Pagamenti rateali senza anticipo né cambiali. Alla Pellicceria di G4, a Firenze, in via Carlo del Prete 10. Hai bisogno di una nuova cucina? Di nuove idee e vantaggiose opportunità di acquisto? Eccezionale! Da oggi la FAMOS, forte dell'esperienza acquisita in 30 anni di attività nella produzione delle cucine, apre la vendita al pubblico. Direttamente dal costruttore alla tua casa, cucine belle e razionali, costruite per durare nel tempo. FAMOS, strada statale sarzanese, chilometro 76, località La Rosa, Terricciola di Pisa. Se cerchi una pelliccia, allora cerchi FIMOB Pell. FIMOB Pell, il più vasto assortimento di pellicce a prezzi imbattibili. Un esempio, Shirling Uomo Donna, a partire da 490.000 lire. FIMOB Pell è a Firenze, in via Antonio del Pollaiolo 6-8 Rosso. FIMOB Pell è a Firenze, in via Antonio del Pollaiolo 6-8 Rosso. FIMOB Pell è a Firenze, in via Tornabuoni e Piazza dell'Unità. La Medicea ha tutto ciò che fa per te. La Medicea è abbigliamento per uomo, donna, bambino, confezioni calibrate e vasto assortimento di abiti da cerimonia. La Medicea è biancheria intima e per la casa, materassi, lenzuola, asciugamani. La Medicea è per i tuoi bambini, dal passeggino all'abbigliamento. La Medicea è tre negozi in Firenze, il più vasto assortimento e i migliori prezzi. Val di Piemme, Val di Fassa, Val Gardena, Val Badia, Molveno, Lavarone, San Martino di Castrozza. Partenze nei due sensi ogni sabato, dal 23 dicembre al 31 marzo. Riduzione del 50% ai ragazzi e del 20% agli studenti. Conviene! Nuitali Tende Dedicando la massima cura ad ogni minimo particolare, sia nel telaio che nella qualità dei tessuti. Secondo, siamo tutti diversi, con esigenze diverse. Ecco perché noi della Nuitali Tende vi assistiamo con esperti che vi aiuteranno a trovare la giusta soluzione ad ogni vostro problema, nella scelta del colore, della soffa e dei telaio. Terzo, vogliamo invogliarvi con un'offerta eccezionale. Vi offriamo una tenda 4 metri per 2 a sole 575 mila litre, con assistenza e montaggio compresi nel prezzo. Interpellateci all'87 97 843. E per il servizio SOS Tende, una segreteria telefonica è in funzione 24 ore su 24 all'87 97 844. Sede e mostra permanente via Lombarda 101, Poggio a Caiano. La mostra è aperta tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica, dalle 15 alle 19. Scuola di estetica reali e sarai estetista. Telefonaci per saperne di più 055 410837. Il mondo della moda è in questo momento una realtà dinamica in continua espansione, nella quale si offrono valide possibilità di lavoro e successo. In questa ottica, il reporter, alla continua ricerca di nuovi personaggi da inserire nel mondo artistico, si pone come valido punto di riferimento per la formazione di indossatori e indossatrici, modelle e modelli, concorsi formativi coadiuvati da insegnanti professionisti, garantendo l'inserimento dei più idonei con contratto di lavoro. Non perdere tempo, telefonaci allo 055 300 256. Sì, tutto giardino è una grande rassegna dove troverai il modo che più ti piace per colorare di verde il tuo tempo libero. Grazie.